Finalmente a raggiungere questo importante traguardo della pubblicazione della sua tesi e forse non è stato dato abbastanza risalto a questo aspetto della faccenda però alla fine la sua tesi è anche un documento estremamente importante per la rilevanza di Serafin per la nostra comunità e quindi che finalmente si è riuscita a pubblicare in una vera e propria opera insomma ha del gran merito sicuramente oggi siamo se vogliamo tra amici quindi ci sarà uno scambio molto attivo anche fra le varie parti e niente lascio la parola a lei e anche a Manuela Sgobbi che ci atterranno questa mattinata